Il roster del Basket Bellizzi che affronterà il prossimo campionato di Serie C è quasi del tutto definito, ma il presidente Pellegrino non esclude l'arrivo di qualche altro rinforzo per Coach Orlando. Oggi iniziano gli allenamenti della nuova stagione. Prende forma il roster del Basket Bellizzi. In vista del prossimo campionato di Serie C Silver, la società del presidente Nicola Pellegrino ha portato a termine diverse operazioni di mercato. Nel ruolo di playmaker è stato ingaggiato il giovanissimo e promettente Fabrizio Trapani, arrivato a titolo definitivo dalla palacanestro Picenzi a Ponte Cagnano. Ad appena 19 anni, Trapani dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza di Bellizzi nella prossima stagione. A rinfoltire la batteria dei lunghi a disposizione di Coach Orlando, invece, è arrivato il gigante Domenico Izzo. Reduce dagli ultimi due anni giocati a Solofra, con i suoi 208 cm, Izzo darà forza e sostanza sotto canestro ai giallo-blu. In prestito dal cuore Napoli Basket è giunta la guardia Alessandro Ferrigno. Per lui, ultime esperienze al Cilento Basket Agropoli e alla Felix Basket Napoli. Graditissimo ritorno, poi, in terra bellizzese per Gerardo Esposito. Mister Promozione, ben sette collezionate nel corso della carriera, torna a vestire la maglia di Bellizzi dopo la stagione 2013-2014, culminata con la promozione in Serie C1, svanita solo nella finale play-off. Uomo d'esperienza e profondo conoscitore della categoria, esposito e reduce dall'ultima stagione disputata in Serie C Silver con la casacca della polisportiva Battipagliese. I nuovi innesti, individuati grazie al prezioso lavoro del DG Fabio Scannapieco, vanno ad aggiungersi ad una base già solida, costituita da buona parte del gruppo che ha conquistato la promozione lo scorso anno. Tante, infatti, le riconferme in casa giallo-blu. Coach Orlando potrà contare anche quest'anno sulle prestazioni dei vari di Mauro, Giordano, Spinelli, Valentino, Bassano e Sarluca. Toccherà a loro infondere nei nuovi arrivati la mentalità e lo spirito combattivo che ha caratterizzato il basket Bellizzi per tutta la passata stagione. Novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico. Il nuovo assistant coach sarà infatti Mario Menduto. Il giovane tecnico arriva in giallo-blu con grande entusiasmo ed aspettative. Novità anche nello staff sanitario che si arricchisce della professionalità del fisioterapista Nicola Vivone, riconferma invece per il preparatore atletico Francesco Danisi. I movimenti di mercato per il basket Bellizzi però potrebbero non essere finiti. Come confermato nei giorni scorsi dal padron Nicola Pellegrino, la società è alla ricerca ancora di qualche elemento che vada a puntellare ulteriormente la rosa.